Sabato scorso, presso l'Aula Consigliare Gerbasio del Comune di Buccino, si è tenuto l'incontro di formazione e impresa giovani. Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dal Club Giovani Soci BCC Buccino Comuni Cilentani, è stato quello di avvicinare i giovani al mondo bancario, informandoli e formandoli sulle opportunità che la BCC Buccino Comuni Cilentani può offrire al territorio. In special modo hanno avuto modo di dialogare con esperti del settore su microcredito, PSR e strumenti di finanza agevolata. Noi abbiamo voluto ripetere una bella esperienza che abbiamo fatto ad Agropoli, il forum dei giovani che ha sollecitato questo incontro e noi vogliamo dire in modo molto deciso e forte, vogliamo testimoniare che anche al sud, nel nostro territorio, c'è la possibilità di poter testimoniare qualcuno che ce la fa, ce la fa come imprenditore, ce la fa come professionista e questo lo vediamo, non c'è bisogno di un convegno. Però se ai giovani si danno degli esempi e soprattutto si dà una modalità di poter percorrere alcune iniziative, probabilmente noi svolgiamo un compito importante perché aiutiamo a far capire che ci sono delle possibilità, ci sono delle opportunità. E appunto questi incontri in cui la banca e il forum dei giovani hanno cercato di convogliare un po' varie anime all'interno di questo convegno, ci sono le istituzioni, l'imprenditoria, la banca, mette a disposizione una serie di informazioni che vanno dagli strumenti, dalle opportunità legislative attraverso la finanza agevolata, alcune esperienze di carattere imprenditoriale, cioè la possibilità anche della disponibilità della banca di poter assistere, aiutare, stare vicino alle imprese che già naturalmente lavorano per poter continuare un percorso di miglioramento, ma soprattutto quegli imprenditori ancora embrionali, cioè quei giovani che hanno la voglia di mettersi in discussione, soprattutto in alcuni settori che noi riteniamo siano molto importanti come l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, beh c'è la possibilità di poter far capire quali sono le esperienze che sono andate bene. E un po' cercando anche di ribaltare un concetto, perché spesso, io dico che oramai il mito del posto fisso, probabilmente anche nel nostro sud Italia è un po' tramontato, non è questa l'esigenza dei giovani. Molti vogliono rimanere nel nostro territorio perché ritengono che il nostro territorio dia grandissime opportunità. Quali sono gli strumenti che mi permettono di poter tradurre la mia idea in un'opportunità di carattere economico? Questo deve essere il concetto e se noi mettiamo insieme e creiamo una filiera importante tra istituzioni, banche, facendo capire anche quali sono quelle aziende che ce l'hanno fatte e cercando di imitare quelle aziende che ce l'hanno fatte. Perché se nello stesso settore ci sono aziende che rappresentano un'eccellenza e aziende invece che hanno delle difficoltà, significa che non è il settore ad essere in crisi ma è la capacità di fare impresa. La capacità di fare impresa secondo me la dobbiamo migliorare, dobbiamo dare le giuste informazioni, dobbiamo fare in modo che ci sia per un giovane che voglia misurarsi come imprenditore, sia agevolato in questo percorso. Io penso che noi ce la possiamo fare, c'è bisogno dell'entusiasmo, i giovani hanno questo entusiasmo e penso che la classe dirigente di una comunità debba agevolare questi percorsi. Ecco perché noi siamo qua, siamo a disposizione su questo territorio, ma nel territorio di competenze della banca stiamo facendo grandissime iniziative. Sono convinto che qualcosa si sta muovendo, però molto dipende da noi, quindi noi vogliamo essere parte attiva di questo percorso.